La Camera di Commercio di Cosenza e l'Azienda Sanitaria Provinciale hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede lo sviluppo di un'azione coordinata e sinergica di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Lo SPISAL che sta nel Dipartimento di Prevenzione si occupa proprio di sicurezza sui luoghi di lavoro e gli ambienti di lavoro e punta tutto sulla prevenzione degli infortuni. Ovviamente nel far questo di norma si procede a fare le verifiche sui luoghi di lavoro per realizzare se è rispettata la norma sulla sicurezza, se ci sono i piani di sicurezza nei vari cantieri. In ambito di quello che è l'accordo sottoscritto con la Camera di Commercio, noi creiamo sinergie tra due enti e anticipiamo la fase del controllo senza sostituirci a nessuno, ma dando il contributo in termini di conoscenza e di competenza alle aziende affinché possano realizzare tutte quelle misure previste dalle norme per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro che è elemento indispensabile al fine di tendere all'abbattimento degli infortuni sul lavoro e alla tutela della salute. La Camera di Commercio di Cosenza ha sottoscritto finora ben 24 accordi con altre tanti enti per offrire sempre più servizi ai cittadini e alle imprese. Fare prevenzione non può prescindere dall'informazione ed è questo il ruolo dell'ente camerale per garantire la sicurezza sul lavoro, ma nello stesso tempo informare le imprese prima che scattino sanzioni per mancata osservanza di obblighi di cui le aziende potrebbero non essere a conoscenza. Fare rete tra gli enti pubblici significa dare un servizio per competenza come l'asla ai cittadini e per competenza nostra alle imprese. Informarle e fare insieme un servizio, in questo caso tutte e due, alle nostre imprese.